Sindaco, non sarebbe utile, l'ho già promosso a ministro, non sarebbe utile che in questo momento lei ci lasciasse e andasse lì, così la vediamo di là peraltro? Sì, posso pure andare, ma non è che posso andare dentro a uno scontro in questo momento, io sarei un attimo in questo momento più attento a capire che sta succedendo. Intanto noi continuiamo a seguire quello che accade. Milano, Roberto.